Il bilancio è positivo per i listini azionari europei, giornata moderatamente rialzista anche per Piazza Affari. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano troviamo Unicredit, Saipem e Puzzi Unicem. Le più forti vendite invece si manifestano su Jux, in calo di 5 punti. Il petrolio perde lo 0,92% e continua a trattare a 52,69 dollari per barile. Tra i dati macroeconomici rilevanti, peggiorano le condizioni economiche in Germania, mentre gli ordini e il fatturato dell'industria italiana sono in deciso aumento nel mese di novembre. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e l'indice sui prezzi delle case dagli USA. Attesa una pertenza positiva per la borsa di New York, in particolare il futures del S&P 500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 5.116,25 punti.